Ehi, sono Flavio, il Meeple con la camicia. Benvenuto a questa nuova puntata, in cui ti parlerò dell'ultimo capitolo di una saga di successo. E sto parlando di Explorers of the North Sea. È un piazzamento tessere da 2 a 4 giocatori della durata approssimativa di 45 minuti. Infine, siamo arrivati all'ultima parte di quella che è stata l'era vichinga, e questa volta siamo al comando di ambiziosi capitani che spiegheranno le vele per scoprire e controllare nuove terre e riempiremo le nostre navi con tanti di quegli animali che sembrerà l'arca di Noè. Seguimi mentre ti mostro i componenti e ti guido attraverso la sua preparazione. Oppure puoi cliccare nei link in descrizione per andare ai vari argomenti di questo video. Oppure puoi cliccare sulla i in alto per andare direttamente al video del flusso di gioco. Sei ancora qui? Ok, spieghiamo le vele allora. Oggi prepariamo una partita per 3 giocatori ma il procedimento per un numero diverso è molto simile. Invece per una partita in solitario puoi consultare il regolamento perché è davvero semplice apportare le modifiche. Ora scegli una delle tessere di partenza. Ci sono anche dall'altro lato. Come prima partita però è consigliabile utilizzare questa. Metti il bestiame in una riserva comune tra cui trovi i maiali, le pecore, le mucche, i polli, le capre e i cavalli. Metti in una riserva comune anche i segnalini nave nemica e insediamento coperti. Quindi dagli una bella mischiata. Ora mischia le tessere e danne 3 a faccia in giù ad ogni giocatore. Quindi metti le altre in una pila a faccia in giù dove tutti possano raggiungerle. Mischia le carte capitano e danne 2 ad ogni giocatore che ne sceglierà una e rimetterà l'altra nella scatola insieme a quelle che avanzano. Fai scegliere ad ogni giocatore il colore e quindi dagli i componenti personali tra cui 5 avamposti, una nave e 7 vichinghi. Quindi ogni giocatore mette la sua nave con 2 vichinghi qui sulla terraferma e qui vengono messi anche gli altri vichinghi. Scegli a caso il primo giocatore e consegnagli il gettone inverno. E questi erano i componenti del setup di Explorers of the North Sea. Ora se vuoi restare un altro pochino con me andiamo a vedere un po' meglio le tessere e le carte capitano. Oppure puoi andare direttamente al video del flusso di gioco. Ma se sei soddisfatto ti ringrazio per aver guardato questo video, ma se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo mettile nei commenti e risponderò appena possibile. Io sono Flavio, il Meeple con la camicia, e ci vediamo alla prossima. Le tessere rappresentano la possibilità di esplorazione che hai ogni turno. Possono contenere acqua e terra in diverse conformazioni. Quando le piazzi devono combaciare perfettamente con le altre e condividerne almeno un lato. Alcune tessere poi possono avere delle illustrazioni che ti suggeriscono cosa mettere su ognuna di queste quando le posizioni. Puoi trovare maiali come in questo caso, oppure polli, capre, pecore, mucche e cavalli. O magari degli insediamenti e delle navi nemiche. Ora vediamo le carte capitano. Ognuna di queste ha sul lato sinistro un riassunto dei punti che puoi ottenere dai set di animali che riporti sulla terra ferma. Per gli avamposti che costruisci, per le navi nemiche distrutte, per gli insediamenti saccheggiati, per le morti dei vichinghi e per le isole che controlli. Qui in basso trovi delle ulteriori condizioni personali per ogni giocatore per fare ulteriori punti a fine partita. E qui hai il riassunto delle azioni tra cui puoi scegliere. E questo è davvero tutto. Ora, se vuoi c'è sempre il link per andare al flusso di gioco, altrimenti se hai domande di qualsiasi tipo mettile nei commenti e risponderò appena possibile. Io comunque ti ringrazio per aver visto questa puntata. Sono Flavio, il Meeple con la camicia e ci vediamo alla prossima.